Tuccio, il cardinal prefetto col vizietto della parolaccia, di Nico Spuntoni. Una premessa è d'obbligo, questo è un articolo da vietare ai minori, come spesso capita quando ci troviamo a scrivere del cardinale Victor Manuel Fernandez. La magra consolazione è che non riguarda nuove disquisizioni sugli orgasmi o consigli di esercizi di meditazione da fare coi genitali. Lo scorso gennaio, ritrovandosi pubblicati gli stralci più hot dell'ormai celebre La Passione Mistica e Spiritualidad e Sensualidad, Tuccio non ha rinnegato quel controverso passato letterario, ma al tempo stesso ha ammesso che non lo avrebbe riscritto. C'è un vizietto, invece, a cui l'attuale prefetto del di Castero per la dottrina della fede sembra proprio non voler rinunciare, la parolaccia. Eh sì, perché la performance nella conferenza stampa di presentazione delle nuove norme sulle apparizioni con quel cazzal*** dal sen fuggito di fronte agli increduli e divertiti giornalisti in sala, non è un'episodica caduta di stile. Il ricorso al turpiloquio in pubblico, infatti, è un pallino del teologo che Francesco ha voluto prima arcivescovo, poi prefetto e infine cardinale. Un assaggio lo avevamo avuto all'indomani dell'annuncio della sua nomina alla guida dell'ex santo uffizio, quando su Facebook aveva voluto farci sapere che i suoi presunti avversari statunitensi, prendendosela con il libro Saname con tu bocca e l'arte de Bézart, poi rivelatosi molto più soft di La Passione Mistica, traducono la parola strega con putt*****. Tra le tante critiche ricevute, questa proprio non l'ha mandata giù e così non ha perso l'occasione per utilizzare la parola putt**. Quattro mesi fa, già membro del Sacro Collegio, nonché custode dell'ortodossia cattolica, Fernandez ha voluto ricambiare l'accoglienza della comunità dove è nato, con una omelia nella messa della vigilia, in cui ha definito una città di mer***** il suo comune d'origine. Un espediente da lui evidentemente giudicato simpatico, per lodarsi mettendo in evidenza con i suoi concittadini che persino un nativo del posto può arrivare molto in alto. Esattamente come è successo a lui. Sempre sotto Natale, per rispondere alle legittime critiche provenienti dai vescovi di tutto il mondo, a fiducia supplicans, il porporato argentino aveva dimostrato la sua concezione di tolleranza, dicendo in un'intervista che chi discuteva la dichiarazione o non aveva letto il testo, o tiene mala lece. Questa espressione nasce nell'idioma spagnolo nel Medioevo come un insulto, e ancora oggi, se la si rivolge a qualcuno nei barrios di Buenos Aires, c'è da aspettarsi una reazione, come quella evocata dal Papa nel 2015, per chi offende la mamma. In ogni caso non è l'aria trasteverina ad aver contagiato il lessico pubblico di Tuccio. Anche negli anni da arcivescovo di La Plata non si è fatto mancare l'amato Turpiloquio. Nel luglio 2022, in una delle tante omelie a difesa del Papa, Tuccio utilizzava il poco elegante tonterias per liquidare le calunnie degli odiati macristi nei confronti di Francesco, un termine che arrivato a Roma ha subito imparato a tradurre con quello utilizzato pochi giorni fa in conferenza stampa. Nell'aprile 2021, invece, in un'intervista televisiva sulle conseguenze della pandemia, l'allora arcivescovo si è accalorato per sostenere l'urgenza di un profondo lavoro educativo e spirituale da fare perché altrimenti ha detto «Questo paese va alla mierda». Noblesse oblige, quello di mierda, è un concetto amato dall'attuale principe della Chiesa, che nel 2013, da rettore dell'Università Cattolica Argentina, sentiva la necessità di utilizzarlo in un incontro pubblico sulla cultura citando Jorge Borges, che davanti alla salma di Leopoldo Marecial si chiese se non avessero litigato troppo per una politica di merda. In conferenza stampa, il cazzalazzo, lanciato lì con Nochalance, ha fatto passare inosservate altre due uscite, non esattamente eleganti, del successore di Alfredo Taviani e Josef Ratzinger, il racconto di una sorta di avance sessuale ricevuta da una sua ex parrocchiana che sosteneva di aver avuto la rivelazione di dover far nascere un nuovo Messia con lui e una risposta sulle novità delle nuove norme che, a suo dire, migliorerebbero la collaborazione tra diocesi e di Castero perché fino ad oggi, ha detto, alcuni vescovi quasi bestemmiavano quando si trovavano a dover discernere apparizioni e altri fenomeni soprannaturali. Di fronte al prefetto del di Castero più importante della Curia, che descrive i vescovi come quasi bestemmiatori, verrebbe da rispolverare il come parli, frate, di manzoniana memoria. Un tempo si sarebbe detto non siamo educande, tuttavia è innegabile che questo linguaggio da trivio in omelie e interventi pubblici da parte di un vescovo risulti quantomeno inopportuno, se non sgradevole, sembra quasi che da parte di Fernandez ci sia una ostentazione della parolaccia. Spontaneità o un tentativo grossolano di volersi presentare come ombre del pueblo a tutti i costi? Se così fosse, anziché teologia del popolo, questo eccessivo uso di volgarità potrebbe finire per inaugurare una nuova corrente, la teologia d'ermonnezza, dal nome del protagonista dei B-movies degli anni 70 e 80 con Thomas Millian e Bombolo. Considerata la passione per il cinema che regna in questi anni, all'interno delle sacre mura, dopo gli interventi pubblici del cardinale argentino, magari qualche produttore potrebbe pensare di rilanciare i moribondi cinepanettoni proponendo un Natale in Vaticano, con Fernandez nel ruolo di guest star al fianco di Massimo Boldi e Cristian De Sica. Oppure c'è la via della ristorazione, da tucio la parolaccia, sulle orme del noto locale Trasteverino, Cencio. Meglio non dare consigli. Comunque, sebbene probabilmente Gianfranco Funari avesse ragione a dire che se uno è s***o non sono gli ebosso di stupidino, si crea delle illusioni, gli e devi di s***o. Quando si ricopre l'incarico di prefetto del di Castero per la dottrina della fede e si deve presentare alla stampa un documento che interessa milioni di fedeli nel mondo, sarebbe meglio dire stupidino.